Prestazione schiacciante da parte di Quarrato che si porta sul 2-0 nella serie con l'Agliana. Riccardo Balducci, cosa c'è da dire sulla partita? Cosa potresti dire? Oggi c'è solamente da dire bravi a tutti perché, a differenza dell'ultima di campionato e di gara 1, eravamo partiti proprio soft. Oggi siamo riusciti a partire subito forte, non abbiamo preso il solito parziale all'inizio, ma questo ci ha permesso di condurre bene o male tutta la gara e siamo stati bravi anche quando ci hanno fatto dei parziali di 6, 7, 8 a 0 a rimanere lì con la terza e di fare un controbrecchio e di andare avanti. Siete sempre stati avanti, avete sempre controllato la partita, immagino che anche domenica tra le pure amiche l'incipit della partita sarà lo stesso. Sì, le cose da fare oggi erano chiare, l'abbiamo fatte, l'abbiamo funzionato, quindi c'è da ripetere sostanzialmente la partita l'abbiamo fatto oggi soprattutto dal punto di vista dell'intensità e della dedizione che ci abbiamo messo. Domenica non sarà per niente facile perché loro ovviamente, lo sappiamo, sono spalle al muro, ma non è che verranno acquarrate a regalarci niente giustamente, quindi sarà un'altra battaglia.